L'incidente in aula è frutto del fatto che ci è stato impedito di parlare, che né ieri né oggi siamo riusciti a fare né le nostre proposte né a votare i nostri emendamenti. Ovviamente noi siamo contrari, ma abbiamo sempre avuto un atteggiamento propositivo e serio nei confronti del Governo. La risposta è sempre stata una porta in faccia.